buongiorno a tutti i ragazzi sullo sfondo di questo bellissimo 128 prima serie volevo fare un piccolo video su un argomento molto breve ossia una cosa che è successa un cliente mio per un lavoro a una diane citroen che avuto da noi in carrozzeria noi siamo carrozzeria officina centro revisione elettroauto abbiamo due sedi molto grandi una provincia di firenze una in provincia di pistoia quindi siamo molto esperti nel settore non mi piace fare pubblicità perché non lo trovo giusto comunque dico che siamo un'azienda esperta nel settore veniamo al punto sullo fondo di questo 128 bellissimo mio prima serie che non c'entra nulla era per riprendere qualcosa voglio raccontare quello che è successo praticamente questo cliente viene da noi per fare un lavoro a un diane ossia dice mi viene un pochino di umido sotto i sedili io conosco più o meno la macchina che hanno una lamiera molto molto delicata e molto molto fragile non è buona come scocca alzo i tappeti e praticamente vedo che sotto c'è due foglie di lamiera di 20 per 20 rivettati i rivetti passano sotto la macchina addirittura noi non sono neanche stati tagliati dopo che sono stati diversi rivetti guarda dico che qui ci sono i rivetti ora poi farò anche un video dove farò vedere il lavoro in poche parole taglio i rivetti rimuovere l'aste di lamiera e sotto ci sono due buchi in uno mi c'entra la testa quindi sarà più di 30 centimetri di diametro e 120 25 centimetri coperto con del cartongesso addirittura per non fare entrare l'acqua di sotto gli dico che bisogna fare bisogna fare la macchina comunque per il resto è bella bisogna fare i pianali e va a spendere intorno ai 1200 euro ora la mia domanda è lui mi dice ma sai dice sono stato da tanti carrossieri tanti carrossieri mi hanno detto che o non ci hanno tempo con una scusa non vogliono vederla oppure cercano di dirmi appunto che hanno da fare ma diceva io pago quando ho fatto il lavoro io gli ho detto gli ho spiegato come l'arcano e l'arcano è così non è che un carrozziere ha paura che il cliente non lo paghi e per quello che non la vuole fare la macchina non le fanno i veicoli d'epoca perché come in questo caso di questa citroë indiana che per farò un video quando ho fatto il lavoro ora oggi la comincio praticamente perché i carrossieri non fanno le macchine d'epoca non fanno le macchine d'epoca per il semplice motivo che non tutti sono capaci a fare un determinato lavoro e hanno paura dopo che il cliente non sia contento e quindi non vengano retribuiti oppure fanno un lavoro molto alla buona e uno dopo la prende un po in tasca questo è il motivo quindi perché io per chiunque persona ha un'auto d'epoca lo consiglio vivamente anche se spende magari qualche costina di più di andare da persone molto competenti in materia perché se no fa un gli fanno un lavoro che non ne vale la pena dopo lui rimane insoddisfatto e lo deve rifare da un'altra parte purtroppo i carrossieri di oggi non vogliono più fare queste macchine che vediamo qua per quel motivo lì perché purtroppo non si sa mai cosa si va a trovare e non tutti sono in grado poi di fare il lavoro considerate che per fare soltanto i pianali di quel citroen diane che io ho guardato la macchina è discreta quindi una macchina media a parte due cosine sui parafanghi che gli dice le metto nel prezzo gli hanno fatto un lavoro ai pianali da criminali ossia gli hanno tagliato neanche tagliato il punto marcio del pianale fatto un pezzo saldato ma gli hanno messo il carton gesso a stucco poi gli hanno gli hanno messo sopra due lampezzi di lamiera di ferro da 0 5 o da 0 8 rivettati non neanche tagliato sotto i rivetti farò un video su su questa macchina che mi è entrata ieri io i canali glielo già ordinati nuovi penso arrivino stasera nel giro di una settimana gliela ridò e va a spendere sui 1200 euro solo per fare i canali e i parafanghi che gli sistemo compreso nel pezzo però è un lavoro è un lavoro eterno lui mi ha detto perché simone mi ha fatto spendere 500 euro e mi ha fatto questo lavoro qua io gli ho risposto perché non sono capaci non sono in grado di fare un lavoro restauro come va fatto ed è per quello che ha speso quei soldi lì gli ho detto vai la fargli vedere la macchina e fatti gli dare i 500 euro le ridà 500 euro un lavoro che ha fatto un anno e mezzo fa e le ridà quindi sullo sfondo di questo bellissimo 128 ripeto state molto attenti da chi portate le macchine perché oggi come oggi i restauri sulle macchine d'epoca secondo me uno le fa un'azienda specializzata nel settore o se no si rischia di trovarsi poi a un punto che anche se accettano di fare il lavoro lo fanno alla cavolo di cane e dopo uno rimane con una mano davanti si dice in toscana una di dietro perché ha pagato quello che doveva pagare e poi tocca anche di farlo perché non va bene per fare un veicolo d'epoca ci vuole tanta passione decenni di esperienza e decine e decine di ore di lavoro voi considerate che soltanto i colori di cui per esempio di questo 128 qui che è un verde oliva grasolit oggi come oggi i carruzzieri non hanno più neanche i tintometri per fare il colore sicché partendo da una cosa più semplice che il colore già lì si trovano in difficoltà figuriamoci a ammolare a zerare o sabbiare una scocca e chi lo fa giustamente si fanno pagare perché a fare una 500 ci vuole 6 7 mila euro di affare una macchina del genere che magari non ne vale neanche ce ne vuole altri 6 mila perché c'è decine e decine e decine di ore di lavoro non me lo stanco a dire un saluto da simone da grid e car pistoia firenze e spero che mi lasciate dei commenti buoni sui lavori che ho fatto nella mia azienda un saluto da questo bellissimo 128 prima serie